In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, sempre laudetur. Maria Sede Sapientiae, ora pro nobis. Carissimi fedeli, continua la lettura dell'Imitazione di Cristo. Libro primo, capo secondo. Dell'umile sentire di sé. Ognuno generalmente desidera sapere, ma la scienza senza il timor di Dio, a che giova? In verità l'umile paesano che serve a Dio è migliore del superbo filosofo, il quale, trascurando sé stesso, considera il corso del cielo. Chi conosce bene sé stesso diventa vile ai propri occhi, né si compiace delle lodi degli uomini. Se io sapessi tutte le cose che sono nel mondo, e non fossi nella carità, a che mi gioverebbe questo dinanzi a Dio, il quale mi giudicherà da ciò che avrò fatto? Calma la smagna di conoscere troppe cose, poiché qui vi si trova gran distrazione e grande inganno. Coloro che sanno di, si compiacciono di essere ammirati e chiamati sapienti. Vi sono molte cose le quali poco o nulla giova all'anima il sapere. Ed assai stolto è colui il quale attende ad alcuna cosa fuori di quelle che servono alla propria salute. Le molte parole non saziano. L'anima, ma la vita buona è refrigerio alla mente, e la coscienza pura dà grande fiducia in Dio. Quanto più e quanto meglio tu sai, tanto più gravemente sarai giudicato, se più santamente non avrai vissuto. Non ti insuperbire dunque di verun'arte o scienza, ma temi piuttosto dei lumi che ti son dati. Se a te pare di sapere molte cose e di intenderle abbastanza bene, sappi però che assai più sono quelle che tu ignori. Non volerti creder sapiente, ma confessa piuttosto la tua ignoranza. Perché vuoi tu anteporti ad altri mentre molti si trovano di te più dotti e periti nella legge? Se vuoi sapere ed imparare la scienza più sublime e la lettura più utile è il vero conoscimento e il dispregio di sé. Nulla riputar sé medesimo e degli altri sentir sempre bene ed altamente è grande sapienza ed alta perfezione. Se tu vedessi altri peccare manifestamente o commettere alcunché di grave, non dovresti tuttavia riputarti migliore, perché non sai quanto tempo puoi durare nel bene. Tutti siamo fragili, ma tu non credere nessuno più fragile di te. In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper laudetur.